Bene ragazzi, oggi è una giornata diversa, andiamo in fiera, una mostra fiera, come si può definirla, dei fiori a Noale, provincia di Venezia. È una fiera estremamente enorme di piante, fiori, che vale la pena andare a vedere. Io cercherò di fare dei video, dove probabilmente il filmato non diventa tanto pesante e riprenderò qualche pianta o qualcosa. Ci vediamo dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.